Arthur, ho una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo. Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai guardato lo sportello di forno? Io guardo solo lo sportello di forno. Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite, di successo? Vuoi un lavoro nel mondo dello spettacolo? Da oggi è possibile, sì, è proprio possibile. Partecipa al primo vero casting in Italia della scuola per televenditori. Le più note aziende della televisione e gli inflexi primari. A Murray, un piccolo favore. Sì. Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Giorgio. Sì. 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 Sì.